dal piccolo libro della calma abbandonati ai flutti galleggia in una piscina o in una vasca o anche in una tinozza e piano piano sentirai la tensione dissolversi abituati alla generosità cedi all'impulso di essere generoso aiuta qualcuno compi un atto gentile fai un complimento chi si sentirà meglio per ciò che hai fatto sarai tu vitalità e vitamine mentre i cibi ricchi di vitamina a aumentano la facoltà di rilassarsi quelli ricchi di vitamina b sono noti per i loro effetti tonificanti aggiungi quindi alla tua dieta fagioli lenticchie piselli noci semi germi di grano cereali integrali e latticini ritirati in tempo in ogni battaglia viene il momento in cui la tenacia non ha più scopo e diventa fini a se stessa capire quando conviene passare ad altro è una dote tipica di numerose persone calme rinsalda le tue amicizie se tendi a prendere troppo sul serio il lavoro e le responsabilità ricorda che la cosa che si rimpiange di più sul letto di morte non sono gli affari lasciati in cospeso ma le amicizie trascurate ciao